2 gennaio 1920 nasce isaac asimov scrittore e scienziato era nato a smolensk in una famiglia di ebrei russi che emigrò negli stati uniti conseguito un dottorato alla columbia university di new york per molti anni fu docente di biochimica a boston il suo primo racconto nightfall tradotto in italia con il titolo cade la notte è considerato la migliore opera di fantascienza mai scritta un decennio dopo con la sua raccolta io robot consolida la fama di autore di successo e traccia un'impronta indelebile su tutta la successiva letteratura di genere il ciclo delle fondazioni trilogia di romanzi sulle macchine intelligenti diviene un classico sull'intelligenza artificiale i suoi saggi scientifici di stile divulgativo sono esemplari per chiarezza e non mancano di humor sotto lo pseudonimo di paul french scrisse anche per bambini creando il personaggio dell'eroe spaziale la kistar una serie di volumi in cui ogni avventura è ambientata in un diverso pianeta del sistema solare asimov morì per arresto cardiaco il 6 aprile 1992 aveva compiuto 72 anni io Grazie a tutti.